Il prossimo sabato 10 ottobre alle 21 nel Duomo di Alghero si terrà un concerto organistico del maestro Giovanni Solinas, strumentista e direttore d'orchestra di fama internazionale e algherese di nascita, che eseguirà brani di Bronze, Böllmann, Liszt e alcune sue proprie composizioni. L'evento fa parte della ventesima rassegna internazionale e organistica diretta dal maestro Ugo Spanu e inserita nell'ambito del Festival del Mediterraneo Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna sotto la direzione artistica del maestro Antonio Mura, organizzatrice delle manifestazioni e l'Associazione Culturale Arte in Musica, col contributo e patrocinio della Regione Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio Regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero e delle diocesi di Alghero Bosa e Sassari. L'ingresso al concerto è gratuito nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid.